E' già operativa dal Vignano la nuova rite pubblica di telecomunicazioni a banta ultralarga. L'Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente ai cittadini, imprese e professionisti del comune di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento si è particolarmente concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete, oggi disponibile ad Alvignano, raggiunge 1788 unità immobiliari. La fibra ottica è stata stessa fino all'interno degli edifici e in grado di garantire velocità di connessione a un gigabyte al secondo e anche oltre. Tra gli edifici interessati spiccano anche tre sedi di pubblica amministrazione a partire dagli istituti scolastici. Da Alvignano è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it